La raccolta differenziata doveva partire a Ragusa il primo maggio, ma in città c'è un allarmismo totale, oltre ad un'amministrazione comunale assolutamente silente, che sulla questione nulla sta facendo sapere. La denuncia arriva dal candidato a sindaco Peppe Calabrese, che dice che, tra l'altro, si sta parlando di un capitolato che non ha ben definito quale possa essere la soluzione sulla questione dei condomini in presenza di cancelli chiusi, ma si sta ancora cercando di capire quali sono le regole per conferire i rifiuti in maniera corretta, quindi una questione che è un aspetto tutto da definire. Calabrese sottolinea anche che si sta diffondendo in città la voce, che vuole in campo una cooperativa aggiunta, incaricata e tra fuori la spazzatura dai condomini. In pratica la Ragusano dovrebbe caricarsi di alti costi. Nulla di più sbagliato, prosegue Calabrese, perché una tasse in più non è assolutamente tollerabile. Pretendiamo che l'amministrazione informi correttamente i cittadini e che si attrezza a risolvere la questione. La discarica, tra l'altro e all'orlo della Capienza, raddoppiando la tassa sulla spazzatura, i grillini vorrebbero andare a casa lasciando ai nostri concittadini questo bel biglietto di commiato.